Buongiorno. Sì, qui siamo nel palazzo della casa di Milano, non mi sapete, e Mr. Master, non stiamo nella casa, ma semplicemente, da qui, a destra, o semplicemente, E Vendelenci. Questo è quello che mi è, è il 31, il ultimo giorno, è un settore, 게llo nel paese, in Piazza e dopo, come, sul tempo, è che stava spattruilsi sì io mi vedo come sentì a stasiphone di satire window sì, credo ma comunque ci possiamo lamentare perché il mese di maggio è stato praticamente tutto sole e cielo speriamo solo che questo segno non sia cattivo e esaggia ragione per cui si è denise solo fra un misato armitico window il palazzo alla casa di mio nonno e no roller shooter attuale come se fossi sempre a casa mia fra un mitico window guida di orange red e proprio in water curtain and it's a green roller shooter e are me in this moment and fine la riforma mitica il keyboard amati g640 ipg625 eba great day mode people follow the channel ricordi? saluto davvero a tutti io più le da great break se io ce l'ho fatta essendo romanicia ma spero che potresti riuscire a tutto che nel tempo dovesse essere brutto da queste parti non che non ci funzioniamo sempre ma quando il tempo è più brutto e mi funzionano ancora di più il resto che preparano in italiano con solo azione e cofazione quando anche arriva il sito nel video si fa due di tortu no scusate sempre se che ho la voce un po' bassa ma ho troppo acqua c'erano persone anziane non posso urlare più di tanto ci avevo detto altre volte anche today good morning si qui sono dai 10 e come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissima una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro oh semplicemente oh semplicemente david lynch it's may 31 the last day of may already 2022 and it's uh tuesday in naples uh cloudy morning in this moment i'm very still right now i 80 80 and 6 farin at around 27 celsius and this means that it's that they really 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 soft like this this and this period and also over because it seems more a summer climate than spring limit as regard to youtube so i don't know if i'll do it but in the case it's always separate from this so eyes open if you're interested anyway i see and you'll just see from the window you can see anything in these days and also think forse in tutta l'estate in all the summer because come ho detto noi ma stiamo sempre la view roller shooter aspetta la tenda per far passare l'aria but so effete this is the one that i think the temperature uhm si manterra certamente sullo stesso livello come eeh vedremo non siamo mai dei manchi su questo but really important thing with this atmosphere in a negative point for me but also in an objective level eeh is that we aren't going to be enjoying those the beautiful blue skies in golden sunshine in realtà Già si vede adesso perché mattinata è inoltrata We don't have them ready Anche se non lo vedete Vi assicuro che è completamente nuvoloso In questo momento I think it could also rain In the next hours But will see comunque Non ci possiamo lamentare perché praticamente Quasi tutto il mese di maggio Abbiamo avuto those beautiful blue skies And golden sunshine Quindi per me va bene così Piuttosto speriamo che questo giorno così Non sia un segno nefasto Per quanto vuole l'apertura di giugno Comunque vedremo Mi auguro di noi speriamo direttamente un tempo migliore domani A questo punto Say that it is so from the mythical wind With the orange red blooming water Coltene behind me And it's green roller shooter Green roller shooter near me In this day Quasi tutta l'estate And finally from the mythical keyboard Imani GX 640 IPG 625 E' un saluto davvero a tutti And also Io la farò tra poco Io sono molto brutto Adesso se lo sentite Ma soprattutto Adesso mi consolerò Perché il tempo è così Anche voi Spero che siate consolati Se il tempo è così E' brutto Non che non ci consideriamo sempre Con la colazione Anzi Però personalmente Ad il tempo è brutto Io consolò ancora di più E poi Del resto Due parole Consolazione e colazione In italiano Fanno anche rima Alzi giù In i video tu Se fai do it Or to go